Ciao a tutti ragazzi! Benvenuti in questo episodio di Surrey RPG90 oggi ci troviamo su The Hive per fare una Bad Wars singoli, inizio a squadre e si iniziano adesso iniziano a fare la Bad Wars SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII contentissimo di fare la Bad Wars adesso fa pure il parkour cosa fanno allora dico già che sono scarsissimo vi dico 10 like 10 like mettete pure la campanellina per vedere quando usciremo un po' Aspettate, prendo pure un'arma Allora, prendiamo No, ho sbagliato Allora, aiuto Allora, il nostro nemico che era vicino a noi ci ne può andare Benissimo Era quello che voleva prendere Allora, andiamoci per questo No Allora, un iron L'altro le dobbiamo con un ancho E' un gravisto Faccio, voglio distrugge Morto Sto portare sull'isola centrale Troppo poter prendermi uno spazio in davanti con tutti gli altri Granti Tutti i schienzierici Tutti i schienzierici Sì, non mi piace, non mi piace. Adesso posso prendermi una bella spada in diamante Buonissima spada in diamante Che costa 5 Unissimo arco Con delle frecce Dopo iniziare il fight Non so, non so, non so, non so Si parte, si parte, vai Mori, mori, mori Cosa vuoi fare, vuoi farti ima? Ma se ti distruggo io Boom, dove sei? Eccoti, mori, mori No Perché ti posso fare che te? Mori Ecco, distrutto Adesso si va dal Il verde Il verde Che mi uccide Oh Il verde Aiuto 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 Ho distrutto Tutti i letti Rimane soltanto Rimanevano noi Il blu e il verde Mi hanno distrutto il tesoro Mi hanno distrutto il tesoro No Che cosa ho provato Tra tutto la cosa Che potevo farmi il tesoro Oh no Aiuto No Mi hanno scoperto Mi hanno scoperto Mi ha scoperto Qui Via 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 Portale Del blu Portale Del blu E' vero Via 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 Ho perso No Adesso voglio una Bellissima partita adesso vogliamo giocare a ruba bandiera è un nuovo gioco che lo studiamo le capsule del florix ok 7 6 5 4 3 2 1 allora mi spiego non dobbiamo farci rubare la bandiera ci saranno gli interni di upgrade possiamo upgradeare la roba e chi prende 3 bandiere della squadra chi prende 3 volte la bandiera della squadra invece ecco che noi adesso stiamo giocando l'ho toccare perché ho giocato moltissime volte ed è una figata questo gioco ve lo dico se voi siete il subetro vi consiglio di andare a giocare a questo oddio stanno già arrivando i blu stanno già arrivando i blu stanno già arrivando i blu per prendere la bandiera rossa non è un'altra bandiera la bandiera la bandiera la bandiera la bandiera la bandiera la bandiera ho preso la nostra bandiera ragazzi quando poi ci ha preso la bandiera no aiuto e noi prenderemo la loro non è che non fanno tutti i figli ah hanno preso la nostra bandiera si 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 portala portala qui portala qui non dobbiamo far morire i nostri compagni perché si muore la bandiera blu è portata a consegnare la bandiera rossa ok adesso posso già prendermi una durissima animatora di pelle arrivo il bloccato nostro arrivo il bloccato nostro io li fermo no non fa male non fa male non fa male non li fermiamo possiamo uccidere il nostro amico devo fare un attacco sul pese ok bene 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 i rossi i rossi stanno venendo a consegnare la nostra bandiera i blu stanno venendo a consegnare la nostra bandiera sono decisi aiuto no 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 nessuno per il momento ha conquistato la nostra bandiera dobbiamo prenderla chi la prende lì c'è è lì lo vedo quello con la bandiera lo vedo lo vedo lo vedo un punto per la nostra squadra non sei il migliore non si non si no l'acqua ti uccide l'acqua di qui non puoi essere prendiamoci le bacche di velocità, una spada di diamante e il scema è posto adesso andremo noi a rubare la bandiera in blu che noi con le nostre fagioli, macici, anzi sono bacche di velocità, oddio c'è già uno il nostro compagno ha già preso la bandiera vai accompagnato con la bandiera devi vincere per noi devi vincere bandiera vincere e non vince siamo noi i migliori sono noi abbiamo catturato la bandiera, si ci manca una bandiera e vinceremo e chi sarà quello a catturare la bandiera? io con le mie bacche di velocità e fagioli non ci bing la bandiera non fa la consegnare ma noi siamo più veloci di blu quindi stiamo correndo molto veloce quindi corri 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 compagnetto corri se lo toghi ci fanno nooo chi consegnerà chi prenderà consegnerà la bandiera chi lo sa stiamo vedendo il nostro compagno potrebbe vincere si sta numerando il blu potrebbe prendere la bandiera il blu ha preso la bandiera no 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 non mi sto fermando subito se non fermiamo potrebbe prenderci la bandiera ma non possiamo più consegnare nooo non è possibile noi dobbiamo vincere per nevo ci date bacca di velocità molto bacca di velocità avanti la bandiera della tua squadra è caduta ha preso la bandiera della tua squadra ok la bandiera della mia squadra è caduta si 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 lasciatela cadere lasciatela cadere lasciatela cadere lasciatela cadere questo del coperato abbiamo vinto segnalini abbiamo vinto allora direi che per oggi basta così abbiamo giocato abbiamo fatto anche le bad wars quindi ci vediamo nel prossimo video ciao lasciate mettete la like e accendete la campanella ciao ciao